Boom di turisti a Napoli per il ponte di Pasqua attesi a Capodichino 115.000 arrivi. L'aeroporto di Napoli sarà preso d'assalto già a partire da domani, venerdì santo, con transfert massicci che continueranno fino a martedì 18 aprile. Circa 115.000 passeggiari previsti in arrivo e partenza dal capoluogo partenopeo. 35.000 viaggeranno sulle rutte nazionali, 75.000 sui voli di linea internazionali e 5.000 sui voli charter delle compagnie Locosto. Tra i dati quello di un trend in netta scalata del turismo di qualità e si riempiono gli alberghi di lusso, ma resta il problema sicurezza a Piazza Garibaldi e il nodo abusivi sul lungomare. Dal centro a Via Caracciolo è impossibile trovare una camera, più 10% di occupazioni delle camere rispetto allo scorso anno. In quattro giorni al terminal del porto di Napoli arriveranno anche 10.500 crocieristi, scenderanno da cinque navi e visiteranno la città o partiranno per Pompei. Intanto la vera novità di queste vacanze è l'apertura nel giorno di Pasquetta del Parco Monumento della Reggia di Caserta. Il manager arrivato con la riforma Franceschini a Caserta, Mauro Felicori, ha le idee chiare e difende a spada tratta la scelta di ripristinare le aperture anche il lunedì dell'Angelo. Per anni l'area si era trasformata in campi di battaglia fino alla Pasqua del 92, dove il parco fu letteralmente preso d'assalto. Saranno vietati i picnic e i bivacchi e non sarà consentito l'ingresso dei palloni. Insomma Felicori punta alla formazione ed educazione dicendo questo è il parco di un museo. Resta chiuso invece il parco di Capodimonte a Napoli. Resta chiuso invece il parco di Capodimonte a Capodimonte a Capodimonte a Capodimonte a Capodimonte a Capodimonte a Capodimonte. Grazie.